Disse poi un'altra parabola per alcuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo se ne stava in piedi e pregava così tra sé. Oddio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e offro la decima parte di quello che possiedo. Il pubblicano invece si fermò a distanza e non osava neppure alzare lo sguardo al cielo, ma si batteva il petto dicendo Oddio, sii benigno con me, peccatore. Vi dico che questi tornò a casa giustificato, l'altro invece no, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Oddio, sii benigno con me, peccatore.